sempre in diretta da beono mizia perché giustamente si ma dorme a beono mizia non è che mi uscite alle maldive o a uno lulu però tanto male non fa, l'altra sera c'era un gufo qua sopra che io vedi, mi disse ah com'è bello sto gufo, il gufetto e non mi ha fatto rummire, ha cominciato a fare piacevole, piacevole, è bello però signor gufo se permette, se permette non dico assai ma 4 risurne che sono due anni che non ci riesco allora, buongiorno pisellini, io faccio il video, lo pubblico alle 6 e poi vado a mare ma lascio qua un po' a waller perché fra il cesso e il bidet non ci entro questo diceva come è bello essere alti, sei fortunato, no perché vai dall'hotel e se tu vuoi fare un bidet non ci riesci perché la gamba sinistra non entra nello spazio che c'è, nello spazio intracessum come dicevano gli antichi romani veniamo al dunque e di ieri la notizia che fa rima con bea domizia, io perciò ve la sto riportando perché ecco, mo si steva alle maldive, non faccio rima con notizia 60 milioni per osimen, evram, lukaku e uno fra casa dei e kepa a me fa male a kepa a pensare queste cose, perciò mi metto il cappello aurelio accetta, cedi, non sei il grande imprenditore che hai sempre chieduto di essere ti piaceva il duecentino per osimen? piglia tutto il culo il duecentino arrivati a questo punto aspetta, mi devo mettere quel panorama dietro arrivati a questo punto, in una situazione drammatica dove osimen arriva a non allenarsi in primis e vabbè, e il ritiro che ora se ne va, ora se ne va, ora se ne va e poi non se ne va e poi a non schierarlo neanche nelle partite ufficiali quelle che contano, ormai è una farsa il ragazzo che va in discoteca e scippa mano o telefono a un guaglione che lo riprende ci ho fatto un video ieri, non so se mi seguite, se non mi seguite se non mi seguite fare bene perchè chi cazzo vuose qui un caseten su capil otte euro a Gaeta e già si è ammaccata una truffa, una truffa, parliamoci chiaro truffa sarebbe quella di voler premere ancora per avere questi famosi 120 milioni da Victor Rosimane ma io voglio sapere chi fa questo burdello quando li faccio i video a Granarolo? cioè, a quanti di me che non passano i camion roll up? penso di un 1800 che non passano i camion roll up e ora passano giù casa mia, vabbè, comunque Osimane va sceduto non si può speriamo il microfono ha boccato speriamo che ha registrato bene non si può più resistere in questa situazione dove viviamo uno stallo che avrebbe già dovuto essere sbloccato da chissà quanti mesi ok? no, perché quello della Rentes è furbo se gli fa il contratto vuol dire che ha già l'accordo con una squadra no no lasciate che vi racconti questa storiella tanti anni fa ormai ero giovane ero magro, ero bello la ragazzina più carica della scuola si innamorò di me ma è successo in vita mia che è una guaiola, si innamora di me solitamente si innamorano regafuno, no? chiedete uno motorino, si fatta così lei era pazza di me e io ero convinto che atteggiarmi a bad boy sarebbe servito tanto lei è folla di me innamorata di me, mi manda i bigliettini, mi manda e cosa ormai è fatta sono io colui che ha la situazione nella mano e invece no piglia in un grande palla perché lei decise di mettersi con un altro questo che vuol dire? qual è la metafora? che in questo caso è non sono io che comandavo sulla fessa ma è la fessa che ha il potere su di me su di me come su chiunque altro e in questo caso la metafora la similitudine, anzi per meglio dire è che non sei tu Arelio a poter decidere il destino di Victor Ozyman e a poter chiedere il prezzo che tu vuoi ma sono le altre squadre che hanno il potere di temporeggiare e di ricattarti tanto sanno che tu Ozyman non te lo puoi tenere per lo stipendio che hai deciso di dargli così pelle buone 10 milioni a Juan sanno tutti il tuo punto debole ormai hai il fianco scoperto e quindi il tempo passa e tu non passi mai questa è una canzone che non mi ricordo manco chi la cantava però è chiaro che ormai il ricatto c'è ormai questo stallo alla messicana si è scoperto che la tua pistola puntata è una pistola finta e non hai colpi mentre gli altri che ti puntano le pistole devono solamente aspettare che tu dica mi arrendo mi arrendo fate voi subito accettare subito i 60 milioni per Victor Ozyman per Lukaku quindi hai già il sossieduto che per carità chi si guarda i miei video sa che Lukaku mi dà qualche sospetto ma ne parlerò meglio quando sarà ufficiale e farò il video su Lukaku già ci fai la copertina già ci fai tutte cose bellissime ok in più la doppia scelta e qua c'è da ragionare sulla doppia scelta perché oh io ho lato mo pozz via ecco la granarolo prima ci stavano cose la granarolo io ho lato mo pozz via mi sale subito e mi fa fare una cacca brutta Casadei o Kepa ok parliamo prima di Casadei che è quello che io avrei una preferenza è un giovane veramente forte è un giovane di talento che può dare quella qualità adesso come nel futuro al Napoli è un giovane che ha giocato alla Premier cioè lui era giovanile dell'Inter è stato ceduto e sapete che cose le plus valenze Casadei 30 milioni Casadei gli vale 30 milioni ok poi il futuro ci dirà che destino avrà sto ragazzo Casadei è un talento è un talento giovane credo sia un under 22 quindi andrebbe bene anche per la lista adesso non vorrei sbagliare ma il Napoli è una grave carenza di qualità una gravissima carenza di qualità e Casadei è quel giocatore che ce la potrebbe dare adesso e nel futuro in molti dicono prendi Kepa perché devo portare Meret che combini Meret Meret pensiamo a paura che la gente mi guardi stanno a me mi fottuovo cioè posso dire sono bella con la camisa guai con il cappello che ho da temere tutti dicono prendi Kepa allora Kepa è sicuramente penso ancora sia stato il portiere più pagato di sempre il portiere più costoso della storia del calcio è indiscutibilmente fra i migliori al mondo lo è da tanti anni fondamentalmente e soprattutto è un giocatore che ha giocato nei top top club ha giocato anche nel Real Madrid nell'ultimo anno in prestito credo quando si infortunò Courtois è un giocatore che ha vinto l'Europa League con Sarri sicuro ci fu quella sceneggiata che Sarri lo voleva togliere e lui disse no 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 rimango in campo fu veramente cringe quella parte comunque Kepa sarebbe sicuramente un colpaccio però io credo francamente ho sempre cercato di difendere Meret dal napoletano medio Meret come oggi ha detto non è il miglior portiere al mondo ok ha dei difetti ma come tutti i giocatori che giocano nel Napoli altrimenti non giocherebbero nel Napoli ma se posso dire la porta è l'unico ruolo dove non sento l'esigenza di dover cambiare cioè io sento un'esigenza di dover migliorare il centrocampo e le fasce in una maniera esponenziale perché ci ha mi concentrato proprio sul portiere questa stagione tanto è un progetto di tre anni anzi come dico sempre di minimo tre anni hai voglia e cattoportiere hai voglia e fa si può e cattoportiere tanto che dicono al vino e chiarello cattini mesord della rent e si fa a cattata mamardashvili che costa ancora 30-40 milioni e ha un potenziale incredibile mamardashvili e anche Giorgiano fai la cosa su FIFA no? Giorgiano e Giorgiano che insomma io prenderei Casa Dei anche se ho visto ieri che in realtà Casa Dei ha svolto le visite mediche per la Fiorentina e sono andate male ha un problema al menisco tipo quindi non lo so tante situazioni da valutare ma fatto sta Casa Dei o uno come Casa Dei si parlava anche di Cialobà che non è il Cialobà che già giocò tempo fa a Napoli il discorso è questo accettare accettare subito così si risolve la grana di Victor Rosimane si chiude la storia ringraziamo Victor e gli auguriamo il meglio per la sua carriera e per la sua vita però si deve andare avanti perché manca poco oggi è martedì giochiamo domenica o sabato ma non mi ricordo e sei poi subito subito i giocatori tanto sempre li devi prendere chiudere le trattative è estenuante e non è mai facile quindi ti trovo già una cosa bella e fatta questo è il discorso che vi volevo fare oggi accettare ok quasi si chiuda meno forse penso che i video li farò da casa prima di scendere e poi no ragazzi il latte non mi ho volto via il latte non mi ho volto via avevo smesso di vendere il latte era una bella abitudine in questa vacanza l'ho ripresa purtroppo sarà un signore sta correndo che ha mezza ma vabbè vi saluto e vi ringrazio forza Roma e a Bastola Lazio e viva il